buongiorno a tutti anzi dovrei dire buonanotte perché vabbè viste i miei orari però fa niente diciamo buongiorno a tutti perché in ogni caso il video lo vedrete sembra che i miei criceti siano belli svegli e quindi già il primo video è andato abbastanza velocemente quindi mi auguro che in mattinata potrete vedere vedere anche questo non vi sto a far rivedere la maglietta che vi ho fatto vedere prima perché dobbiamo parlare di moto gp e gran premio della repubblica cieca vediamo subito il primo giro come è andato perché pronti via e morbidelli beffa tutti e va in fuga con ls spargarò che si mette davanti a quartararo o quartararo permettendo all'italiano di prendersi quasi un secondino di vantaggio quindi dopo la partenza il primo giro abbiamo morbidelli in fuga una a lei se spargarò clamorosamente al secondo posto un quartararo che si è lasciato un attimino sorprendere dal pilota della ktm se non sbaglio e terzo quindi poi le spargarò alle sue spalle quindi poi binder zarco che ahimè è partito maluccio aveva fatto la pole position invece si trova sesto al settimo posto rinsa all'ottavo mignale sal nono rossi e al decimo petrucci inizia il secondo giro come sempre da adesso in poi andrò a ritroso tenendo conto che saranno 21 i giri di questo gran premio comunque dicevamo a 20 giri dalla fine scusate mi si è impappinato qui quartararo passa a lei se spargarò mentre binder si prende il quarto posto su pole spargarò passato anche da zarco che diventa quindi quinto e si fa sotto dopo una pessima come dicevo prima partenza a 17 giri dalla fine c'è da segnalare un rossi in rimonta ottavo dopo aver superato il suo compagno di squadra bignales che come al solito all'inizio della della gara e lui è tranquillo pacato eccetera poi quando arriva arriviamo a 10 giri dalla fine magari si sveglia inoltre c'è da segnalare l'incidente tra mir e le cuona con fuori entrambi la dinamica è un po sfigatella perché praticamente qui c'è mir le cuona si inserisce anzi si inserisce da questa parte qua ecco ci mettiamo così le cuona si inserisce lo supera scivola e praticamente scivolando anziché scivolare verso l'esterno va verso l'interno della pista e cosa succede scivolando va a beccare in pieno il povero mir fa filotto e volano via tutti e due dall'altro lato pista non si fanno fortunatamente nulla a parte che ahimè devono lasciare tutti e due la gara colpa di nessuno cioè lui fosse entrato un po troppo forte come dicevano i cronisti e la moto gli è andata via intanto a 17 giri dalla fine binder zitto zitto cacchio cacchio è terzo e marca abbastanza da vicino quartaro che non riesce a sconorlarselo di dosso a 13 giri dalla fine binder beffa incredibilmente quartaro e si prende il secondo posto e adesso il pilota francese dovrà anche guardarsi le spalle da paul e spargarò sempre a 13 giri dalla fine paul e spargarò passa quartaro ma proprio sull'ultima curva prima del traguardo va largo e gli restituisce praticamente la posizione praticamente dato è andato a fare la curva modello battiscafo e come ha detto i cronisti e quindi ciao buonanotte meno male non ha perso anche un'altra posizione dietro però è dovuto si è dovuto riaccodare a 12 giri dalla fine c'è un po le spargarò che si tocca con zarco perché praticamente la pista è bella larga no lui va un po largo va centralmente a fare questa curva e giustamente zarco sta all'interno e fa la sua curva l'altro cosa fa si allarga piano piano e va a toccare col capino la moto di di zarco toccando col capino la moto di zarco che mentre perché era così è la moto gli va via e però si incassa leggerissimamente quindi diciamo che ha dato la colpa a zarco del fatto che lui è uscito di pista i commissari poi saranno d'accordo con lui gli faranno fare un un taglio di pista diciamo di un long run come si suol dire praticamente deve andare nella fare una curva diciamo in esterno nella corsia di emergenza va della pista però alla fine della fiera non perde granchessi perde qualcosina ma nulla di eclatante comunque a 11 giri dalla fine zarco sorprende quartararò e si prende il terzo posto intanto morbidelli mantiene il suo secondo scarso di vantaggio su binder che però è sempre più arrembante a 9 giri dalla fine binder ormai vicinissimo a morbidelli che sta facendo sempre più fatica forse le sue gomme cominciano ad essere in sofferenza mentre invece quelle di binder vanno che ha un piacere e infatti a 9 giri dalla fine proprio nello stesso giro perché comunque tenete conto che il circuito di punto della repubblica cieca di brno è molto molto lungo è appena appena i piloti lo chiudono poco meno di due minuti un minuto e 57 più o meno quindi essendo molto lungo ne succedono di cose in un giro e quindi proprio in questo nono giro a nove giri dalla fine binder salta morbidelli dice ma ciao io vado a prendermi la prima vittoria in in carriera forse chi lo sa e invece come dicevamo long run di penalità zarco che comunque non perde nessuna posizione mi sono accorto siccome mi faceva libidine questa gara perché veramente ne stanno succedendo di cotte di crude che non vi avevo ancora ratificato la classifica come si suol dire comunque la classifica a sette giri dalla fine vede binder al primo posto morbidelli al secondo zarco al terzo quartararo al quarto in difficoltà rinsa al quinto rossi al sesto oliveira al settimo a lei se spargarò ottavo nakagami nono e vignales decimo che non si è ancora acceso a cinque giri dalla fine rins passa a quartararo che a sua volta ha adesso attaccato come una cozza sullo scoglio anche rossi che è pronto a sorpassarlo e infatti non faccio in tempo a scrivere che rossi è lì attaccato modello cozza sullo scoglio che rossi passa a quartararo e si è presto a sua volta a raggiungere rins mentre anche olivera salta quartararo in grave difficoltà a quattro giri dalla fine meglio che birra guaglia sulla classifica perché sono successi un po di cosine abbiamo sempre binder primo morbidelli secondo zarco terzo rins quarto rossi quinto olivera sesto quartararo settimo nakagami ottavo e spargarò nono e miller decimo non succede nulla di ecletante e all'ultimo giro quando i piloti arrivano per fare l'ultimo giro la classifica vede sempre binder primo morbidelli secondo zarco terzo rins quarto rossi quinto olivera sesto quartararo settimo nakagami ottavo e spargarò nono e miller decimo l'ultimo giro succede poco o nulla la classifica rimane invariata a parte gli ultimi due posti che si invertono perché praticamente miller sorpassa a lei se spargarò proprio all'ultimo giro e si prende la nonna posizione per il resto classifica confermata quindi classifica finale del gran premio di brno brno in repubblica cieca binder prima vittoria io ho continuato a dirlo fin dal prima prima gara attenzione a questo ragazzo sudafricano che mi sembra molto molto interessante come l'anno scorso parlavo di quartararo quest'anno parlo di binder quindi binder primo morbidelli secondo zarco terzo rins quarto rossi quinto olivera sesto quartararo settimo nakagami ottavo miller nono e spargarò decimo detto questo io vi saluto vi ringrazio è stato veramente un gran premio è grande libido mi sono divertito infatti non vi ho scritto la classifica perché era un sorpasso dietro l'altro letto aspettiamo un attimo vediamo che le posizioni si cristallizzano come si suol dire si congeli in un attimo e poi facciamo perché sennò di due per tre devo aggiornare la classifica comunque libidine ma quando il micione non c'è i topolini ballano in attesa che rientri mar marquez questi se ne approfittano e danno spettacolo quando rientrerà mar marquez mi sa che mar marquez prende e a meno che non fa disastri come nella prima gara dice signori ciao ciao io me ne vado perché nella prima gara ha fatto di tutto di più a momenti va a vincere poi è ricaduto un'altra volta poi ha emesso è fatto male eccetera eccetera adesso deve stare fuori fino a metà settembre salta ancora un paio di gare mondiale un attimino scappato via perché come ben sapete avremo soltanto 13 gare pare a meno che non ne aggiungano qualcuna e quindi è un mondiale a metà non ha voluto farlo per forza perché le show must go però francamente speriamo poi da marzo dell'anno prossimo ma prima sapere quando si ricomincerà nuovamente a parlare di moto mondiale anche formula 1 di vedere veramente i soliti 20 21 22 gran premi e non queste cose un po arzigogolate come si suol dire detto questo io vi saluto vi ringrazio ci vediamo ai prossimi video ciao ciao